Una delle domande che mi viene fatta, ma i trattamenti estetici funzionano? In effetti una domanda molto intelligente, perché ad oggi siamo bombardati da molti open day di nuove apparecchiature, senza sollevare il vero inestetismo ed esigenza della cliente. Molte donne sono scettiche perché sentono di continuo le stesse proposte e vedono che i centri estetici copiano e purtroppo in questo caso restano deluse dai risultati. Copiare senza avere un metodo è la conseguenza di zero risultati. Presso il nostro istituto siamo molto esigenti su determinati aspetti e per poter accedere ai nostri programmi bisogna sottoporsi a dei check specifici e dettagliati. La diagnosi è fondamentale per garantire la risoluzione e ci serve per individuare l'esigenza del percorso più adatto a te. Inoltre durante la nostra diagnosi viene svolto il trattamento di Rimodellati Start, dove già con la prima seduta riusciamo ad avere dei risultati e capire se il corpo è in fase di blocco. Ecco perché la nostra specializzazione nel metodo Rimodellati ci permette di raggiungere gli obiettivi di bellezza che desideri. Diffida dalle coppie. Il mio metodo è sempre in continua evoluzione e questo mi permette di differenziarmi dal classico centro estetico. A questo punto se sei una donna esigente che ha provato di tutto ti resta che essere sbalordita del nostro metodo. Io resto a tua disposizione, però se non mi conosci io sono Pamela Scribano, sono la direttrice tecnica dell'istituto La Mimosa e ideatrice del metodo Rimodellati, dove ti garantisco una taglia in solo le quattro settimane. Per contattarci chiamano 0 932 246 085 o 327 5631975. Ci troviamo a Ragusa in via Napoleone Nicola Janni numero 41. Ciao!